I itineris però bisogna mettere in comunicazione la costa e l'entroterra per un turismo non solo di stampo balneare ma che vive il territorio che lo ospita attraverso la conoscenza diretta delle sue eccellenze e questo l'intento di itineris che presenta per il settimo anno successivo e forte dei numeri dello scorso anno in cui più di 1800 turisti hanno aderito all'iniziativa i suoi itinerari nel distretto turistico Marcabella nel mondo dell'enogastronomia alla scoperta delle aziende agricole, dei prodotti tipici e dell'artigianato artistico Torna i itineris, un esperimento ben riuscito che continua a crescere e a mostrare segni di vitalità perché ogni anno si rinnova senza stravolgersi Settimo anno di questa bella esperienza, dall'esperimento si parla di consolidamento perché è molto richiesta dai turisti si unisce la costa con l'entroterra, le eccellenze enogastronomiche, l'artigianato ma quest'anno c'è una cosa in più, cioè il turista potrà fare esperienza diretta portandoci a casa il frutto del suo lavoro quindi farà il miele, parteciperà d'autunno alla vendemmia, la raccolta delle olive, le tagliatelle tutta una serie di attività che coinvolgeranno in modo attivo il turista che oltre a contemplare come i nostri sapienti contadini e artigiani fanno le cose potrà parteciparvi Turismo esperenziale quindi, come valore aggiunto di promozione turistica che permette agli albergatori consorziati, promotori dell'iniziativa, assieme alla Camera di Commercio di offrire al turista, alla modica cifra di 5 euro, trasporto e degustazione compresi, pomeriggi alternativi È un'esperienza che ogni turista viene nella nostra città, che se la riporta a casa e ci fa un'ottima promozione del territorio Quello per noi è molto importante perché la promozione vuol dire vendere pacchetti vendere alberghi, vendere ombrelloni per i turisti che vengono nella nostra città E questa tipologia di turismo trova nelle Marche un terreno fertile ed un elemento distintivo ed esclusivo a dispetto dei vicini di casa, troppo spesso scimmiottati Il modello vicino a noi, il modello romagnolo, è un modello che non si addice alla nostra tipologia di offerta Intanto perché la maggior parte delle aziende, delle strutture ricettive sono familiari, sono piccole strutture per la maggior parte la gestione è familiare Noi dobbiamo puntare a un modello a misura d'uomo che rispetti l'ambiente, quindi non grandi cementificazioni delle spiagge e delle coste ma rispettosi dell'ambiente valorizzando quelle che sono le nostre opportunità in termini culturali, in termini enogastronomici senza scimmiottiare gli altri perché noi siamo sicuramente meglio degli altri Grazie